La fucsia è una pianta rustica coltivata per i suoi fiori e penduli molto caratteristici e dai colori molto vivaci che può rallegrare le nostre case ma anche i nostri terrazzi e i nostri giardini. È una pianta di facile coltivazione che fiorisce dalla primavera all'estate fino all'autunno purché si assicurino le giuste cure. Andremo ad effettuare il rinvaso ogni anno in marzo, in primavera, marzo-aprile e andremo a utilizzare un vaso delle dimensioni leggermente superiori a quelle della pianta utilizzata. Mettiamo sempre sul fondo del vaso dell'argilla espansa per favorire il drenaggio e poi utilizziamo il terriccio specifico per piante acidofile, azalen e torfi. Mettiamo quindi il terriccio in vaso. E posizioniamo la pianta. In questo modo qui. E riempiamo l'intercapedine, sempre con del terriccio, fino a riempire appunto tutto il vaso. Compattiamo il terreno, in questo modo qua, e richiamo. La fucsia è una pianta che si può coltivare in appartamento, posizionandola in una zona molto illuminata. Si può collocare anche in esterno, quindi coltivata in vaso, ma soprattutto nelle zone dove il clima è mite, in quanto non sopporta il freddo invernale. In questo caso andremo a posizionarla in una zona ben illuminata. Se il clima però è molto caldo, la portiamo al riparo, un po' all'ombra, perché il sole diretto potrebbe bruciare comunque la pianta. Le piante invece coltivate in appartamento in estate possono essere spostate in balcone o terrazza. Non sopporta temperature inferiore 7-10 gradi e quindi in inverno, se coltivata sempre all'esterno, conviene ripararla in veranda e coprirla con del tessuto o non tessuto. Sono delle piante a foglia decidua, quindi perdono tutte le foglie. Quindi nel momento in cui si spogliano non dobbiamo preoccuparci, è assolutamente normale. La fucsia è spesso soggetta a ingiallimenti e avvizzimenti fogliari e questi molto spesso possono essere dovuti proprio alle basse temperature, a stress dovuti a sbalzi termici. Per favorire una maggiore resistenza delle piante alle avversità ambientali, possiamo nebulizzare sulle foglie il concime Synergon 2000 ricco di aminoacidi. Per quanto riguarda l'irrigazione, innaffieremo la nostra fucsia una volta a settimana in primavera. In estate andremo ad innaffiarla circa due volte a settimana, mantenendo sempre il terriccio umido ma non bagnato. In inverno andremo invece ad innaffiare ogni 15-20 giorni anche una volta al mese, facendo comunque sempre attenzione, sia in primavera che in autunno ed inverno, a non lasciare l'acqua nel sottovaso, in quanto è una pianta che non tollera i ristagni idrici. Per esaltare la bellezza della pianta e favorire lo sviluppo di nuovi fiori e nuovi germogli, bisogna fornire nutrienti specifici. Questo lo facciamo attraverso il concime specifico granverde per piante acidofile. Basta diluire la dose di mezzo tappo misurino in un litro e mezzo di acqua e con la soluzione ottenuta irrorare quindi il terreno. Molto spesso la pianta di fucsia è carente di ferro, quindi si manifestano sulle foglie degli ingiallimenti, dove le nervature rimangono verdi e si ingelisce il resto della foglia. La clorosiferica in genere interessa le foglie più giovani, quindi quelle che si trovano in alto, all'apice dei fusti della pianta, e si manifesta in genere in primavera. Per prevenire o per curare la carenza di ferro, andremo a nebulizzare sulle foglie il concime della linea integratori ferro. La fucsia molto spesso è attaccata dagli afidi o dai pidocchi, che si raggruppano attorno ai germogli più teneri, ai boccioli, formando proprio un manicotto, quindi colonizzano tutto il fusticino e il fiore a volte, e portano quindi al deperimento della pianta. Le infezioni iniziano in genere in primavera, conviene quindi controllare spesso la pianta e in presenza di questi fastidiosissimi insetti, trattare con l'insetticida pronta all'uso Ciperblock. La fucsia è una pianta che si pota all'inizio della primavera, quindi prima che emetta appunto i nuovi germogli, le nuove foglie. Basta accorciare la pianta di un terzo della linghezza dei rami, e questo per regolare la forma della pianta, in quanto è una pianta che tende a crescere molto disordinata. Ed ora una curiosità, in Nuova Zelanda, di cui questa pianta è originaria, le donne maori utilizzano il polline della pianta dei fiori, che è di colore azzurrognolo, come cosmetico naturale per gli occhi e le gote.